Di solito alle provocazioni risponde con la preghiera e il silenzio quando è inopportuno alimentare le polemiche, ma questa volta proprio non ce la fa a sopportare di vedere sostituita la parola madre con genitore 1 o padre con genitore 2, o viceversa perché ancora non è chiaro chi si possa definire tale nella modulistica per le iscrizioni dei bimbi all'asilo comunale di Bari. A scendere in campo a difesa prima di tutto dei bambini e poi delle famiglie è Monsignor Francesco Cacucci, Arcivescovo di Bari Bitonto, che dichiara Sono strabiliato per il fatto che si continui ad intendere un figlio come un diritto. Si vuole negare il fatto che un figlio è un dono. Tutto ciò dipende da un errore antropologico, quello di assolutizzare i diritti individuali e separarli dalla vera natura della maternità e paternità. A sostegno di quanto dichiara Cacucci interviene anche Monsignor Filippo Santoro, Arcivescovo di Taranto. Condivido l'osservazione di Monsignor Cacucci, la vita è un dono, la sacralità della vita è il fondamento del pensiero cristiano. A sottolineare il problema da un punto di vista giuridico è l'avvocato ed ex assessore comunale liberale a Bari, Emilio Toma. Sono un padre e il diritto naturale, prima ancora che la nostra Costituzione e le leggi oggi vigenti, mi attribuisce il diritto ad essere riconosciuto come tale nei documenti ufficiali. Ciò di per sé non significa preecludere altro e così laddove è ritenuto opportuno e legittimo il riconoscimento di forme di cittadinanza alle coppie omosessuali. La mia formazione è laica, liberale e libertaria, non è legittimamente possibile obbligarmi a denominarmi come genitore uno o due e non come padre. Infine la levata di scudi arriva dal forum delle famiglie di Puglia che racchiude oltre 50 associazioni familiari. Signor Sindaco vorremmo che si desse meno spazio all'ideologia e molta più attenzione alla vita reale di chi ogni giorno genera e costruisce il futuro di questa città. Tuttavia apprendiamo con interesse e non senza perplessità che anche a Bari le parole mamma e papà sono divenute sinonimo di omofobia. Francamente ci sembra ideologico far passare attraverso queste formule la tutela delle persone omosessuali a cui va tutto il nostro rispetto. Ci sembra invece interessante ed opportuna tanto la riflessione sui diritti, i doveri e le responsabilità delle coppie omosessuali quanto e certamente anche più urgentemente la concreta azione di tutela e supporto delle famiglie naturali baresi. Contrario anche il segretario cittadino di Forza Italia Luigi D'Ambrosio Lettieri, i bambini sono l'anello più debole in difeso di questa assurda catena di montaggio dei desideri scambiati per diritti. Dice che purtroppo a Bari viene avallata dall'amministrazione De Caro e da loro che occorrerebbe partire per costruire la società migliore. Non si può davvero pensare che usare due parole naturali ed antiche come madre e padre possa essere foriero di intenti discriminatori e omofobi. Siamo alla follia, dice. E se è mai vero il contrario, ad essere discriminati sono proprio i padri e le madri. E a fare le spese di questa giostra dei desideri sono soltanto loro, i bambini.